L'Italia eccelle nel manufacturing quando può e quando vuole. Siamo in una situazione normativa che rischia di essere detrimentale sia per quando può che per quando vuole. Quando può vuol dire che in questo momento aziende di manufacturing non hanno un sito dove collocarsi perché la syndrome in limbi portata all'infinito impedisce praticamente qualsiasi insediamento industriale degno di quel nome in quanto impatterebbe con l'acqua, con l'aria, con il traffico eccetera. Quando vuole è perché in questo momento si fa fatica a fare sistema e ci si basa su cosiddetti investimenti sicuri come quelli sponsorizzati da degli incentivi che ormai non sono più sostenibili.